Il mondo è un posto grande, popolato da animali, pesci, flora e uomini. Questi ultimi sono stati in qualche modo scelti per compiere grandi cose, realizzare tecnologie semplici come la ruota o complesse come un pc. Tutto si muove intorno alla tecnologia, alla scienza, anche se quest'ultima non sempre ha le risposte adeguate alle domande che ci portiamo dietro da secoli. Siamo da soli nell'universo? La morte è la fine di tutto o il portale verso un'altra dimensione? Esiste la magia? Esistono i meta-umani? I viaggi nel futuro? Noi, di Mystery Zone, vogliamo essere gli osservatori di queste anomalie. Piantiamo il seme del dubbio nelle menti di chi non crede e cerchiamo di dare delle risposte a coloro che credono. Questa è la zona del mistero. Benvenuti. 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 Benvenuti.